Le cose che ce le ripongono e se non agisce... Incontro sul progetto Protezione Cuore è il titolo del convegno che si è tenuto nel centro medico riabilitativo San Leonardo a Grumono Evano. La riabilitazione cardiologica è quella branca della cardiologia che si occupa di promuovere l'attività fisica come elemento protettivo per il cuore e le arterie ed è in stretto rapporto con la prevenzione cardiovascolare. Lo ha sottolineato il professor Domenico Miceli responsabile della cardiologia riabilitativa dell'azienda ospedalire dei coli di Napoli. Di prevenzione si parla molto ma poi se ne fa all'altro pratico poca. È dimostrato che si curano benissimo i cardiopatici si fa molto meno purtroppo prevenzione secondaria e molto poco prevenzione primaria al di là degli slogan che noi ascoltiamo o leggiamo sui giornali anche quelli non del tutto, non tecnici, non professionali. I messaggi sono non fumare, non ingrassare, non fare attività fisica ma di fatto poi se andiamo a vedere le statistiche negli ultimi anni sono aumentati i fumatori, sono aumentati gli ipertesi che non si curano bene e sono aumentati i pazienti in eccesso di pesca. Il cardiopatico va recuperato sempre dopo l'evento acuto e questo è lo scopo della riabilitazione cardiologica. Va recuperato nel tempo perché è dimostrato che purtroppo che esiste un'aumentata mortalità a distanza di tempo mentre è ridottissima la mortalità nella fase acuta. Quindi utilizzare delle strutture pubbliche, private, accreditate tutte le strutture possibili rendono un servizio alla comunità perché creerebbero un risparmio anche in termini di ripetuti ricoveri e ripetute procedure. All'evento, oltre ad Antimo Cesaro, titolare dei centri medici IGEA e dei dirigenti dell'ASN Napoli 2 Nord, anche il presidente della Commissione Sanità della Regione Campania, Raffaele Topo. Campania bisognerà trasformare una serie di strutture in eccesso che persistono per colmare la cura dell'offerta sia pubblica sia nel sistema accreditato. Ovviamente stasera si discute di uno dei temi scoperti, cioè di attività che non hanno una presenza significativa in Campania quindi facciamo un focus su questo argomento. Il tema dei prossimi anni, ripeto, sarà investire in tecnologia, capitale umano e fare una grande opera di trasformazione delle strutture persistenti perché usciamo dal commissariamento se i conti sono in ordine ma se adeguiamo l'offerta e quindi garantiamo i livelli essenziali di assistenza perché l'altro obiettivo è assegnato al neocommissario oggi nominato. Quindi proviamo a fare questo sforzo nei primi due anni di attività e io penso che ci sono le premesse per poter fare un buon lavoro. Dei mille regioni della sanità... Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.